Il corvo della mia creatura è quasi pronto, manca solo la parte più importante, il ciò bello. Il mio video assistente ci starà già pensando. Quanto diavolo ci mette? Maestro! Maestro! Maledetto idiota! Quanto tempo ci hai messo a portarmi questo cervello? Vinga! Accenda le macchine! Poi i fulmini di questo temporale daranno energia necessaria per dare vita alla mia creatura! No, no, padrone! Aspetti! Cosa aspetta? Scienza non può aspettare! Cosa è stato questo terribile tanfo? Maestro, il cervello mi è cascato nel cesso! Il tuo? Il suo! Tu mi hai fatto mettere un cervello che è cascato nel cesso? Sì, sì! Sì, sì! Cosa ridi, idiota? Cosa diventerà costui? È un povero cretino in giro per il mondo! Cosa è stato... Mi consente Bravo! 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 Si! Oh si dalle! Bravo!